Noi abbiamo da sempre assicurato una capillarità attraverso i nostri sportelli periferici, abbiamo 19 sportelli su tutto il territorio, tutta la provincia di Pesaro Urbino, che sono il nostro valore aggiunto per il territorio. Chiaramente in questo periodo di emergenza sanitaria che ha investito tutto il nostro paese, pur mantenendo i servizi tutto attivo e garantendo la regolarità, qualche disagio chiaramente dovuto a assembramenti e presenze potrebbe esserci. La nostra richiesta verso la cittadinanza per cercare di garantire la salute di tutti, i cittadini, i dipendenti, è chiaramente quello di utilizzare il più possibile canali diversi dalla presenza fisica allo sportello. Noi abbiamo attivi la nostra mail clienti chiocciola gruppomarchemultiservizi.it, abbiamo da anni un call center dedicato che è un numero di telefono gratuito messo a disposizione della cittadinanza, l'800-600-999 che attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00. Oppure abbiamo il nostro sito internet www.gruppomarchemultiservizi.it a cui si può accedere e iscriversi allo sportello online. Abbiamo rafforzato la nostra presenza di operatori di BEC proprio per rispondere in modo tempestivo alle richieste che possono pervenire con questi canali digitali. La preghiera che facciamo a tutti è di utilizzarli il più possibile in questo periodo, sperando tutti che possa finire presto. Quali sono le richieste principali che affrontate quotidianamente e che possono comunque essere soddisfatte a distanza? Le richieste sono tutte le richieste che possono pervenire dalla cittadinanza, quindi dalla richiesta di preventivazione, di allacci, installi contatori, richiesta chiarimenti bolletti, info varie, informazioni sui pagamenti, informazioni sui servizi offerti, quindi l'idrico e l'atari. Qualsiasi tipo di necessità abbia l'utente che usufruisce dei nostri servizi può richiederli assolutamente con i canali digitali, quindi non è assolutamente necessaria la presenza fisica. Garantiamo la risposta in giornata al massimo entro la giornata successiva, quindi stiamo facendo il possibile per metterci proprio a disposizione degli utenti. Grazie. Grazie. Grazie.